Che squadra rivedremo dopo queste due settimane, Tino? Vediamo, perché con l'aiuto dell'Under possiamo allenare ogni giorno e oggi recuperiamo i giocatori della Nazionale, il primo allenamento per loro, domani è il secondo e giochiamo con buona sensazione contro una buona squadra che mi piace come loro attaccano. Gioca molto bene questo Catania, tra l'altro neopromosso e occupa la settima posizione, quindi ha messo già in difficoltà nell'ultimo turno il Pesaro. È vero, è vero. Per noi è importante rispettare questa squadra, il suo gioco tanto in attacchi come nella difesa e per noi è troppo importante provare a fare il nostro gioco abituale. Voi però siete non solo campioni d'Italia ma comandate la Serie A, avete un buon margine sulle inseguitrici, volete continuare e consolidare questo primato? Sì, non voglio pensare che siamo al primo. Per me è importante, ogni partita sono tre punti, e cominciamo questo ciclo di partita, prima con Catania dopo... Dopo ci sarà un ciclo di ferro perché andrete a Pesaro che è terza in classifica, poi doppio confronto casalingo contro l'Ollo Caffè Napoli che occupa la quarta posizione e poi arriverà il Rieti secondo. Sì, sì, e terminiamo con... finito con Eboli, prima la finale, un mese e mezzo è complicato. E quindi insomma alla fine di questo ciclo si faranno un po' i conti, no? Avete fatto una tabella di marcia? Sì, 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 adesso comincia un nuovo ciclo. Adesso siamo contenti perché abbiamo arrivato a questo riposo, a questa parata prima, ma non possiamo pensare a questo. Lavoriamo per vincere ogni giorno e vediamo se facciamo una bella partita il sabato. Sabato alle 18.30, lo ripetiamo, Pala Santa Filomena di Chieti, c'è il Catania, a voi mancherà lo squalificato di Olivera, il resto tutti a disposizione? Sì, tutti vediamo, tanto Calderoli come Jonas hanno un piccolo problema, non so adesso, non dipende da me, del staff medico, se è possibile che loro puoi giocare o no. Vediamo, hasta l'ultimo momento credo che è possibile. Perez, stiamo parlando del campionato, però a marzo dal 20 al 24 ci sarà la Coppa Italia, anche lì ci tenete, no? Sì, per noi è una coppa troppo difficile di vincere perché a una partita non hanno favoriti, squadra favorita. È vero che noi partiamo come l'ultimo vincatore, però penso che per noi è una nuova illusione, una nuova possibilità di vincere un altro nuovo titolo. Grazie, grazie di cuore a Tino Perez, grazie anche a Diego Martelli, il nostro operatore, per completezza di informazione, prima di restituire la linea. Vi dico che sempre sabato l'altra formazione abruzzese, Civitella Color Max, giocherà in trasferta ad Arzignano.